signori e signori buonasera io sono pappagallo lallo e questa è la mia cucina oggi chiameremo la cuoca gaia che ci preparerà un piatto speciale vieni vieni a preparare buonasera a tutti io sono il pappagallo lallo e questa è la mia cucina adesso chiameremo la cuoca gaia che ci verrà a preparare un piatto speciale osservate bene cuoca gaia vieni signorina gaia dove sei eccoti che cosa prepareremo di speciale oggi veramente avevamo detto di preparare un'altra cosa ti ricordi lì dentro cosa c'è qui signori e signori buonasera siamo nella cucina di gaia e pappagallo lallo adesso prepariamo una ricetta speciale osservate bene e osservate ed imparate cuoca gaia dove sei bene cosa stiamo per preparare questa sera no dobbiamo preparare quelle le uova a le uova di dinosauro bene allora prendiamo per prima cosa le uova prendiamo le uova due uova di dinosauro in ghi e poi e poi prendiamo cosa e mettiamo le uova dove le mettiamo le uova a cuocere allora dai mettiamo le uova sulla pentolina abbiamo fatto un bel casino come al solito grazie brava gaia ecco fatto poi poi accendiamo il fuoco che profumino di dinosauro in ghi e finito sono pronte le uova bene e allora signori e signori devi prendere un piatto una patatina va bene arrivederci alla prossima ciao ciao